Ciao a tutti, grandissima sorpresa dal salutatore, sì, sono nella diretta di Luca Cocco. Ciao Luca! Ciao Cristian! Eccoci qui, allora, direttamente sei appena sbarcato da questo grande talent show a Londra. Sì Cristian, è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza unica che mi manterrò nel cuore. Ho conosciuto tanti artisti provenienti da ogni parte del mondo. Voglio salutare tutti i miei amici artisti, Yuan Fan Yang, dalla Cina, Madeleine, dalla Francia, lo staff e il direttore. Voglio ringraziare a tutti. Ecco, allora questo si travede la tua emozione. Allora, in questa diretta flash, noi vi salutiamo direttamente da Ardauli, Luca Cocco, di Ardauli e dietro il lago Omo Deo. Ciao con la manina del salutatore, ovviamente. Ciao diretta, saluto live!